buongiorno buongiorno no perché perché secondo te dove vado secondo te tu è affanculo perfetto così si riprova lezioni di padel la macchina sempre più avanti al sedile l'ho lasciata da mia sorella momenti arrivo dentro il cofano un po d'aria ci se la fa manca respirare c'è una cosa assurda te sbatte davanti te sbatte come farà guida boh io ma ancora un altro po a un po l'aria quando entri su sta macchina che la prende a mia sorella soffre claustrofobie finito oggi che abbiamo comparato bandega gialla gialla grandissimo numero 1 speriamo di vincere qualche partita molliamo mai e beh le ultime mode dell'anno quali sono l'ultima mode dell'anno stanno che arriva non si può di è in segreto però possiamo dire l'iniziale si no 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 è in segreto scopritelo da voi eh si fa la terza alimentare eh ministra c'è l'astuccio diario anche l'apice 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 il diario dove c'è? ma c'ho quale è uno a quadri quelli grossi c'è una sciavetta sul comode a barabacicci cocco eccolo ma come è fatta andare qui sopra è un le mani ha messo anche la fascia di lì, guarda come scalcia, si è scocciata tutta, si scoccia ma anche le mani si rompe lì, è rotta, ma posso con me che pia in caccio di voi, il problema è riscente, chiama qualcuno per farla riscendere, fa sentire se sta ok, fa sentire, fa sentire come sta al moribondo, fa sentire il cincillare fa sentire come sta, eccolo, eccolo, fermati, mi sta a bruciare i peli dai braci, vedi il terrorista, ma come mai fai così, caschino, non mi tocca al chiapparti come ieri l'altra sera vai oh, oh no, oh, se vuole apri, apri, se no l'avevo, ti dico io, ah no, è aperto, è aperto e come no c'è che si fa eh oh che si fa dai, vedi, rinno che si mangia ho sentito che erano cotti che buccanotte che si mangia che si mangia buccanotte che si mangia è il nuovo che ti dico io che si mangia buccanotte di che? di cazzo nooo ma perché fai così? no, perché ti rubi coglioni ma tu sei un orsetto lavatore no, ma quando uno dice una cosa tu sei un orsetto lavatore tu sei un orsetto lavatore smettala ora sei quasi cardinale di sciolita oh 50 grammi vai quanto me ne pare 50 grammi ecco i classici 50 grammi di pasta sarà mezzo chilo va bene, non fa niente, mangio mezzo chilo mamma mia sto, guarda guarda te la loro hanno fissato tanto la manca no, vai anche nervoso perché la temperatura è veramente bassa e sta nevicando ha nevicato guardate gatti delle nevi motoslitte leva il vino basta ho capito allora senti come fa a non sentire coccodrilli per vedere l'intero video di son cantante se anzi non me lo fate di perché sennò mi ritrasforma in disastro quindi fate swipe iscrivetevi al canale youtube e andate a vedere il video video io vieno al governo alle scelte di draghi su green pass è obbligo vaccinare quella del SPD rivendita l'età e la responsabilità ecco perché voi vedete il partito dell'entrata che è un partito più draghiano dormimo? eh? ma dormi no? ma che bisogno che fai non li posso io ma va sul letto no? dai no 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 non ce l'ho buon giocare a padel la partita secondo te che fai vinco o perdo quindi a ridurre l'aggressività del virus oh i bolletti eh grazie mille grazie muflone sempre in masticazione fa birra oggi non ha merito una birra ho vinto maglielo chiappolo 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 che è Lu? che è? che è o no? che è una mignota ah si? perchè? chiappolo chiappolo fatta anche stasera eh fate i cannelloni guarda adesso le faccio dei pieni mamma mia eh guardate che lavoro di qui c'è una lavorazione cioè abbiamo fatto la pizza mamma con la cipolla oh 7 numero 7 so io so io tu sei in testa di cazzo corre in culo e come fa? e corre in culo e come fa? ma va se ne va ma è rubato vai ma è rubato vai qui è il fuoco e tutti i canzoni eh da lui in casca eh guarda che faccia da da test da cazzo nooo eccolo ecco il coccodrillo che vuole la pizza guardate è affamato è famelico già ne ha mangiato in pezzo incredibile ma che dieta è questa? eh? quella che mi fa i cazzo mie oh fa la schiacciata fa la schiacciata fa la schiacciata quella vera qual è la schiacciata? ecco la schiacciata vera con la cipolla nulla no pallavoro eh nonna maria eh eh come ti muove? come va? come sta dietro? ho capito ma e beh ho vinto che? eh ha pallavoro che ha vinto? 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 stavo a mangiare i biscotti si è mangiare dieci biscotti oh hai capito? ma come ha fame? dieci biscotti dieci biscotti a mangiare mi ha visto paura? mi ha visto paura? ah che bello oh è arrivato chi? è un ambasciatore chi? chi è arrivato? c'è il carnatane chi è arrivato? lo strunzo dormi con te? oh fammi dormi con te oh che vuole? fammi dormi con te come no? dai dai si dormi con 30 al letto c'è quella che ha un po' te e mezzo lui no lui no che è secco ma questo letto che avevo fatto che si alzi da basso quant'è comodo? è uno spettacolo puoi fare anche quello per l'orecchio come dormi con te? vieni qua dai vieni a dormire 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 che la fai? vieni a dormire ma tu cerca delle patte di coglioni con chi è andato a dormire eh con chi è andato a dormire? vieni a dormire ma io con chi è andato a dormire? vieni a dormire su altro ma che cazzo mi frega con chi dormi? eh oh vieni a dormire no così e anche stasera una buona notte speciale dalla cristoteca c'è pan di zucchero lì controlla tutto da sopra anche se hai occhi chiusi sempre attento e niente vado a respiro spia tutti io vado a dormire ci vediamo domani mattina domani sicuramente sono un po' fulminato c'è una partita molto presto la mattina però ormai non siamo all'ancazzo vado a dormire guardate chi mi tocca da qua chi è questo cane? quanto è carino rocca saluta tutti che si vanno a dormire tu vanno a dormire sulla cuccia tua però eh sozzo